Dal libro Dottrine di Salvezza, volume 3, Joseph Phil Smith, capitolo 2, I segni dei tempi, disordini e calamità degli ultimi giorni. I profeti predissero le calamità degli ultimi giorni, l'angoscia e le incertezze, lo spargimento di sangue e il terrore, l'egoista ambizione di governanti dispotici quali il mondo non aveva mai veduto prima d'ora, tutto sta a indicare che il terribile giorno del Signore è vicinissimo, anzi alla porta. Da principio i profeti ci hanno ammonito, essi tramite rivelazione del Signore hanno chiesto che ai giorni nostri la confusione, lo spargimento di sangue, i tormenti, le carestie, i terremoti, e altre calamità avrebbero affitto la faccia della terra. Il Signore parlò ai Suoi discepoli di questi eventi spaventosi e disse che il cuore degli uomini sarebbe venuto meno allorché si fossero abbattuti sulla terra. Da quello che ogni giorno si legge sui giornali è evidente che noi viviamo in tempi di perigo e le attali condizioni del mondo non dovrebbero essere motivo di alcuna grave sorpresa perché siamo stati abbondantemente informati che questi giorni sono vicini. Soltanto i miscredenti e coloro che si ribellano contro gli insegnamenti di Nostro Signore e dei Suoi profeti non sono riusciti e non riescono a comprendere questi gradi renti. Enoch vide la nostra epoca, infatti il Signore gli rivelò la storia dell'umanità dal principio alla fine del tempo e egli era ansioso di sapere quando sarebbe venuto il giorno in cui questa terra sarebbe stata purificata da tutta l'inquietà che si trova in essa per poi avere riposo. Il Signore gli rispose, come vivo, così io verrò nei ultimi giorni, nei giorni di iniquità e di vendetta per adempiere la promessa che io ti ho fatto riguardo ai figli di Noè. E verrà il giorno in cui la terra si riposerà, ma prima di quel giorno i cieli saranno oscurati e un velo di tenebre coprirà la terra e i cieli tremeranno e anche la terra e grandi tribolazioni saranno fra i figli dei uomini, ma il mio popolo io lo preserverò. Il mondo è corrotto come al tempo di Noè. Il nostro Salvatore ha detto che il periodo precedente, la sua venuta seconda, sarà tipico dei giorni del diluvio. Uno sguardo al capitolo 6 della Genesi ci rivela quali fossero le condizioni del mondo ai tempi di Noè e del diluvio, nonché la ragione per la purificazione con l'acqua. Questo paragone non deve essere interpretato figurativamente, ma letteralmente come ci è dato. Oggi il mondo è corrotto, è pieno di violenza come era in quell'antico periodo, perché ora, come allora, tutta la carne ha corrotto il suo sentiero sulla terra. Il Signore ha promesso che Egli non avrebbe mai distrutto di nuovo il mondo intero con il diluvio, ma che l'avrebbe purificato per la seconda volta con la spada e con il fuoco. Si può dire con sicurezza che oggi l'ira del Signore è veramente contro questa generazione per la sua malvagità e che la terra si lamenta di nuovo sotto il peso dell'iniquità che in essa viene praticata. L'Onnipotente non ha dimenticato la promessa fatta a Enoch e presto verrà il giorno in cui la terra sarà nuovamente purificata da tutta l'iniquità per riposare per mille anni. Nei ultimi giorni il Signore manda disordini e guerre. Per Tavuni, farisei, è alquanto spiacevole che qualcuno parli di queste cose e dica che i castighi sono sotto forma di guerre. Pestilenze, carestie e turbamenti degli elementi colpiranno l'umanità per ordine di un Dio giusto, indignato per l'inosservanza da parte dei uomini delle sue sante leggi. Non di meno è proprio così perché io, ha detto il Signore, la sua collera è accesa contro le abominazioni e peccati del mondo. La dimostrazione secondo cui il grande e spaventevole giorno del Signore è vicino, come Dicherano, Malachia e Moroni, si coglie in molti segni dei tempi. Parlando della scena che precederà la sua venuta, il Salvatore disse che ci sarebbero state guerre e rumori di guerre, poiché si leverà nazione contro nazione e regno contro regno. Ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi. Inoltre ci saranno molti grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile anche gli eretti. Quando vediamo che l'albero del fico mette le foglie, sappiamo che l'estate è vicina. Questa analogia il Signore la fece in relazione ai segni della sua seconda venuta. Scoperte, invenzioni, cultura, segni dei tempi Tutti ammetteranno che noi viviamo in un'età meravigliosa sotto molti aspetti la più grande che questo mondo abbia mai avuto. Sulla Terra ci sono grandi segni e prodigi più di quanti l'uomo ne abbia mai avuti prima. Le grandi scoperte, le invenzioni, il fluire della cultura, le varie teorie dei tanti principi, sia veri che falsi, per una gran parte dei quali si traggono in inganno i uomini, sono segni e prodigi che ci vengono dati e ai quali dovremmo fare attenzione. L'aeroplano che solca i cieli, la radio, che ci porta la voce degli uomini da tutte le parti della Terra, le grandi opere di ingegneria civile e meccanica che danno così tanti agi all'uomo, la costruzione di grattacieli, lo sfruttamento dell'energia elettrica per vari scopi, le grandi scoperte mediche e le capacità chirurgiche con le loro mille grandi meraviglie. Tutto, tutto è stato una conquista dell'uomo, ma per la volontà e il potere di Dio. Ci sono disordini sulla Terra sia fra gli elementi che fra gli uomini. Il cuore degli uomini viene meno, i terremoti sono estremamente frequenti e in vari luoghi. In queste e in numerose altre maniere vediamo l'albero figo mettere le foglie e noi abbiamo ricevuto l'ammovimento, tuttavia molti, la maggioranza degli abitanti del mondo, non riescono a vedere niente di significativo in tutto questo, per cui dicono che le cose vanno avanti come dal principio. La cecità dei popoli negli ultimi giorni. Uno dei grandi segni è la mancanza di fede in Dio e il rapido allontanamento dai principi fondamentali delle dottrine cristiane da parte dei popoli della Terra. Da qualcosa adempie la predizione del Signore secondo la quale quando egli verrà non troverà nessuno accenno di fede sulla Terra. Uno dei segni più marcati degli ultimi giorni è la cecità dei popoli. Sappiamo che essi pure, avendo occhi, non vedranno, avendo orecchie non vedranno ed avendo cuori non comprenderanno. Se al tempo di Gesù questo era vero nel caso degli ebrei e delle nazioni circostante, è doppiamente vero ora per ciò che concerne le nazioni che noi conosciamo. Moroni disse a Joseph Smith che tutti questi segni prodigi con la commozione della Terra avrebbero interessato il mondo e per imprimere bene nella mente del giovane profeta il significato di questi avvenimenti, l'angelo cittò le parole dei profeti che in molti secoli prima avevano scritto riguardo a queste cose. Soperi ed agitazioni nel mondo, nel lavoro, segni dei tempi. Oggi tutto il mondo si trova nella degradazione morale della malvagità. L'amarezza e l'odio sono entrati nel cuore dei potenti, cuore che viene meno ed è afferrato dalla paura. Sicuramente la parola del Signore è vera. Il mondo intero giace nel peccato e geme sotto le tenebre. Nella nostra stessa terra, che il Signore ha detto essere scelta fra tutte le altre terre, regnano sovrani il dolore, l'insoddisfazione e i sovvertimenti. Per molti mesi i scioperi hanno paralizzato l'industria, il capitale e la mano d'opera hanno fini opposti. Le proprietà vengono intenzionalmente malvagiamente distrutte. La forza viene impiegata per perseguire scopi egoistici. Si invocano nuove leggi per raggiungere tali scopi. La scontentezza e l'odio nascono da queste condizioni in mezzo a tutti questi scompigli e distruzioni. I santi degli ultimi giorni dovrebbero vivere in pace e sicuri. Ciò potrà essere fatto se essi saranno onesti con se stessi, con il loro prossimo e con il loro Dio. Responsabilità della crisi mondiale. Ieri uno dei fratelli ha affermato che praticamente ogni oratore fino a quel momento aveva detto qualcosa sulla crisi. Penso di non essere fuori luogo se anch'io dico qualcosa su questo argomento. Vorrei dare la colpa di questo a chi ce l'ha. È così facile per l'umanità incolpare qualcun altro dei suoi stessi errori ed è così facile per noi a causa della nostra natura umana avere il merito quando la cosa che viene fatta fa piacere e rega vantaggi. Ma non vogliamo mai assumerci la responsabilità dei nostri errori che dispiacciono e così facciamo di tutto per passare questa specie di responsabilità a qualcun altro e altrove. Quando i figli israeli uscirono dall'Egitto essi furono guidati da Mosè come aveva ordinato il Signore però quando gli stessi si trovarono a dover affrontare le difficoltà cominciarono a lamentarsi di lui e volevano ritornare in Egitto ai loro lavori e alle loro tribolazioni. Ora fratelli e sorelle assumiamoci le le nostre responsabilità e non cerchiamo di trasferirle altrove. La responsabilità di questa crisi è in parte mia, è in parte vostra, è colpa dell'agricoltore, del mercante, dell'educatore, dell'uomo d'affari, del professionista, cioè della gente di ogni ceto. E perché? Perché non si vuole dare ascolto ai comandamenti di Dio. Dico che in parte la colpa è mia perché posso non aver dato ascolto ai comandamenti. È mia perché posso non aver seguito i consigli che in molti anni sono stati dati da questo pulpito. È colpa vostra perché anche voi non avete dato ascolto a questi consigli. È colpa di tutto il mondo perché si è rifiutato di ascoltare la parola di Dio, di seguire i consigli che provengono da Lui non soltanto attraverso gli antichi profeti e apostoli ma anche attraverso le parole che di tanto in tanto hanno detto i profeti moderni. Crisi economica, un segno dei tempi. Oggi il mondo è pieno di egoismo, di abilità, nel desiderio di possedere. Per molti anni abbiamo vissuto in maniera dispendiosa. I nostri desideri sono stati soddisfatti, non le nostre necessità soltanto, ma i nostri desideri ed abbiamo desiderato molto. La maggior parte di noi è riuscita a soddisfarli e ora viene il momento in cui troviamo spogliati di qualcosa, limitati, senza tanti privilegi e i nostri desideri non sono più così esauditi e così cominciamo a lamentarci. Ma dovremmo liberarci del nostro egoismo e della nostra cupidigia, del nostro desiderio di possedere quello che è al di là dei nostri bisogni e delle benedizioni che ci appartengono. È tempo che gli uomini facciano atto di umiltà e di pentimento e cerchino il Signore. Io credo che il tema generale di questa conferenza sia stato quello del pentimento. Credo che esso sia quanto mai opportuno. Per anni ho esortato la gente a pentimento su e giù per i pali di Sion. Credo che ci sia bisogno di pentirsi. La crisi è sopraggiunta perché abbiamo abbandonato Dio. Quando dico questo non mi riferisco solo ai tanti degli ultimi giorni ma a tutti in generale. Le popolazioni in questa nazione, quelle di altri paesi, hanno abbandonato Dio. Noi abbiamo violato le sue leggi. Noi non abbiamo dato ascolto alle sue promesse senza pensare che avevamo l'obbligo di osservare le sue leggi e i suoi comandamenti oltre alle leggi della terra. Il giorno di riposo è diventato un giorno di piacere, un giorno di condotta chiassoso, un giorno in cui l'adorazione di Dio è sostituita con l'adorazione di tutt'altro piacere. Mi dispiace dover dire che molti santi degli ultimi giorni sono colpevoli di questo fatto e dovremo pentirci. Perché le calamità degli ultimi giorni coprono la terra. La ribellione contro Dio, un segno dei tempi. In questo paese, così come in altri paesi, gli uomini hanno pressoché dimenticato Dio. Essi non lo adorano con tutta la loro forza, mentre le volontà non come dovrebbero. Sto parlando dei uomini in generale, anzi che osservare i comandamenti, essi li violano. Sono più le persone che trascurano i comandamenti di quelle che li osservano. Questa ribellione contro Dio, perché di questo si tratta, non si limita a coloro che non professano alcuna religione o che non credono nel Signore Gesù Cristo, perché il male si è insinuato entro i confini della Chiesa stessa e ci sono molti che si definiscono santi degli ultimi giorni e sono re di questi peccati. Nella perghiera d'apertura, fratello Parker Robinson ha pregato affinché questa nazione di cui noi facciamo parte possa, attraverso il pentimento, sfuggire ai costighi che sono stati predette e che non vi sarà pentimento. Si abbatteranno su di noi. Permettetemi di leggere dal secondo capitolo del libro di Ether laddove il Signore parla di questa terra. E nella sua ira aveva giurato il fratello di Gialle che chiunque a partire da allora e per sempre avesse posseduto questa terra promessa avrebbe dovuto servirlo. Lui, il solo vero Dio, o sarebbe stati spazzati via quando la pienezza della sua ira sarebbe caduta su di essa. Ed ora possiamo vedere i decreti di Dio riguardo a questo paese che è una terra promessa e qualunque nazione la possederà dovrà servire Dio o verrà spazzata via quando verrà la pienezza della sua ira e questa sopraggiunge quando saranno maturi iniquità. Poi ci viene detto che il Dio di questo paese è Gesù Cristo. La malvagità è causa di scioperi, guerre e dolori. Io temo per gli Stati Uniti d'America. È tempo di temere per le altre nazioni. I disordini che oggi si verificano in Spagna sono il risultato dell'accumularsi della malvagità attraverso i vari periodi del mondo. I popoli non sono distrutti nella giustizia ma nella malvagità. Il Signore ha decretato che i malvagi uccidano i malvagi e in quello stato questo è quello che oggi sta accadendo. Cose analoghe succederanno in altri paesi e questa terra in cui noi viviamo non sfuggirà a meno che i uomini non si dedichino di nuovo all'adorazione di Dio e non riconoscano Gesù Cristo. Essi lo hanno respinto e si sono fatti in gioco dei suoi comandamenti. Il Signore ha dato. Perché chiamate Signore, Signore e non fate quel che dico? E gli dice e anche se tu mi ami mi osserverai ed osserverai tutti i miei comandamenti e mi servirai. Serviamo a noi il Signore? Osserviamo i Suoi comandamenti? Oppure seguiamo le tendenze e i mali dei tempi? Questo paese in cui viviamo è pieno di disordini. Altri paesi sono pieni di disordini, contese e lotte. I scioperi, le agitazioni, l'angoscia, i tumulti che hanno avuto luogo sono il risultato della malvagità. Essi non scaturiscono dalla giustizia, queste cose non accadono perché la gente ama il Signore ma perché lo hanno abbandonato e perché è venuto il tempo del raccolto e della mettitura della terra. La disobbedienza genera terremoti e tempeste di polvere. Durante la settimana passata la nostra attenzione è stata richiamata sulle molte gravissime condizioni che affliggono i nostri, il nostro ed altri paesi. In una lontana parte del mondo c'è stato un terribile terremoto. Migliaia di persone hanno perduto la vita. Nel nostro stesso paese, durante gli ultimi mesi, in una stagione in cui la terra è solitamente coperta di neve, in alcuni dei nostri stati centrali la gente è stata colpita da tempeste di polvere. Anche qui abbiamo avuto un accenno di tale malanno. Le trombe d'aria hanno sollevato enormi e spaventevoli nuvole di polvere trasportandole qua e là causando incendi, ingenti danni a cose e persone. Questo fatto ha messo nell'animo della gente grande agitazione. Angoscia è un certo allarme. Infatti, secondo gli scienziati, si teme, a meno che non venga fatto qualcosa per proteggere il paese, che alcune sue zone oggi molto produttive possano alla fine divenire sterili. Alla base di queste condizioni spavorevoli ci sono delle ragioni. Quello che sto per dire non sarà considerato scientifico e forse sarà messo in ridicolo da quelli che si considerano scientifici, ma a me non importa niente. Voglio dirvi, miei fratelli e sorelle, che in questo c'è la mano del Signore. Il fenomeno per cui il vento può disturbare la superficie del suolo non è tutto dovuto ai uomini che lo hanno lasciato in condizioni tali da favorire questo fenomeno, ma bensì al fatto che i uomini violano i comandamenti di Dio e si rifiutano di dare ascolto alla sua parola. E queste cose adempiono le predizioni fatte dagli antichi profeti e anche dai profeti del nostro tempo. Le calamità, la violenza, la crisi economica sono il risultato della disobbedienza. La volontà del Signore non è che i popoli siano colpiti ma disastri da dolori, dalle calamità e dalle crisi economiche, come siamo soliti chiamare alcune delle nostre afflizioni. Ma poiché l'uomo stesso viola i comandamenti di Dio e non cammina in rettitudine, il Signore permette che egli sia colpito da tutti questi mali. Nel principio il Signore benedisse la terra per amore degli uomini. La sua intenzione era che se gli uomini avessero osservato i suoi comandamenti, essi avrebbero meritato di avere le buone cose della terra e di vivere felici e in pace nello spirito della giustizia. Ai giorni nostri il Signore ha dichiarato che egli si compiace di dare agli uomini la pienezza della terra come si compiace che essi la usino. Inoltre essi avrebbero ricevuto il Signore che riverserebbe su di loro copiose benedizioni se essi prestassero ascolto e obbedissero alle leggi divine date loro per una giusta guida. Ma gli uomini sono ribelli, essi non sono disposti a vivere secondo quelle leggi e a trarne profitto. Essi non sono disposti a ricevere le buone cose della terra che il Signore dà loro in abbondanza, ma nella loro grettezza, nella loro miopia, nella loro abilità e nel loro egoismo pensano di saperne più del Signore. E così seguono un'altra strada, con il risultato che le benedizioni del Signore vengono ritirate e al loro posto subentrano le calamità, la distruzione, le afflizioni e la violenza. Gli uomini devono incolpare soltanto se stessi. La cattiva saluta e i dolori sono le conseguenze della disobbedienza. Talvolta ci chiediamo perché dobbiamo soffrire, ci chiediamo perché non godiamo di ottima salute. Da quanto ho ora letto, si può concludere che talvolta noi soffriamo perché non siamo fedeli nello svolgimento del nostro dovere e nell'osservanza dei comandamenti del Signore. Che peccato che la gente presti così poca attenzione ai consigli sacri, prendendovi vinta dall'amore per le cose del mondo la strada più ardia, per poi venire costigata quando invece c'è il mezzo per evitare tale strada. Quando sopraggiungono queste calamità, qual è diritto al popolo di Sion di aspertarsi protezione? E se i giusti in mezzo ad esso devono soffrire, il peccato sarà alla porta dei ribelli che non hanno ascoltato questo consiglio. Il ritiro dello spirito genera calamità. Una vera calamità per il mondo fu quella in cui il Signore decretò di ritirare il suo spirito dagli abitanti della terra. Egli non si riferiva allo Spirito Santo perché gli uomini non avevano mai avuto il dono dello Spirito Santo, ma si riferiva alla luce della verità o Spirito di Cristo il quale, se lo avessero ascoltato, li avrebbe condotti alla verità. Questo era lo Spirito che i ritirava da essi a causa della loro malvagità e al ritiro del suo Spirito avrebbe portato loro queste calamità, cioè le pestilenze, le piaghe e tutto il resto che qui abbiamo menzionato, incluso lo spargimento di sangue e le guerre. Joseph Smith ci avverte delle calamità future. Il profeta Joseph Smith informò i suoi fratelli delle calamità future. Alcuni di questi fratelli dicono che il profeta, mentre parlava di queste cose, piangeva come piangeva il nostro Salvatore quando guardava Gerusalemme. Il presidente Wilford Woodruff, parlando di questa testimonianza e di questo avvertimento al mondo che il profeta aveva ricevuto in una visione delle cose che sarebbero accadute sulla Terra, disse Io credo. Che noi non abbiamo alcun diritto di chiudere le orecchie, né abbiamo alcun diritto di tacere o di chiudere gli occhi dinanzi agli movimenti fatti dal Signore il quale ci comanda anche di trasmetterli alle nazioni della Terra. Nel 1893 ho sentito il presidente Wilford Woodruff rendere testimonianza da questo stesso pulpito sul quale mi trovo ora, come aveva fatto in altri luoghi e come fece fino al momento della sua morte, che gli angeli che avevano aspettato di andare a mettere la Terra erano ora stati mandati a compiere quella missione ed essi si trovano sulla Terra. Perciò egli disse Possiamo aspettarci le calamità, la distruzione, la peste e lo spargimento di sangue. La malvagità del mondo è aumentato. Lasciate che richiami la vostra attenzione sul fatto che questo mondo non sta migliorando. Non dobbiamo illuderci che esso sia diventato migliore. Se così fosse, allora le profezie sono sbagliate. Il mondo oggi è pieno di malvagità. La malvagità è in aumento. È vero che ci sono molte persone rette sparse su tutta la Terra ed è nostro dovere cercarle, portare loro il Vangelo di Gesù Cristo e condurle fuori di Babilonia. E il Signore ha detto loro, uscite da Babilonia, che è il mondo. Se pensate che il mondo stia migliorando, osservate le volgarità e le nefandezze che troviamo pubblicate in alcune illustrazioni di riviste, spesso anche sugli schermi. Pensate alla corruzione ed alle condizioni degradanti dovute all'uso dei liquori e del fumo, dei narcotici e delle droghe. Pensate all'immoralità così spiccata in tutto il Paese. Dalla stampa e dalla bocca dei nostri giovani che sono ritornati in patria sappiamo quali mali esistevano nei nostri accampamenti militari. Ora veniamo sollecitati a costringere i nostri ragazzi, quando sono ancora molto giovani e impressionabili, ad andare negli accampamenti militari dove avranno pochissima se non nessuna protezione con tribizi così predominanti in questi campi. Io voglio dirvi, miei fratelli e sorelle, che per ciò che mi riguarda sono contrario a questo. Le condizioni del mondo peggioranno. Di tanto in tanto si sente parlare di qualcuno che dice che le cose non potrebbero essere peggiori. Io voglio dirvi che esse potrebbero essere peggiori, molto peggiori. Leggendo i segni dei tempi, devo dire che ancora non abbiamo sofferto tutto quello che dovremmo soffrire se non ci pentiremo. Per molti decenni da questo pulpito, molti uomini hanno proprietizzato nel nome del Signore. Il presidente Brigham Young, il presidente John Taylor, il presidente Wilford Woodruff ed altri nostri fratelli, dirigenti e presidenti della Chesa, hanno levato la loro voce di ammovimento. Essi hanno richiamato l'attenzione del popolo sulle condizioni attuali. Anche il Signore ha proprietizzato queste cose ed esse sono state menzionate pure dagli antichi veggenti e profeti. Siamo stati ripetutamente ammuniti. Ci sono state predette le calamità future. Ci è stato insegnato il come evitarle, come potremmo essere protetti se noi soltanto ascoltassimo i consigli che ci vengono dati e la testimonianza della verità. Se non lo faremo, non potremo essere risparmiati. Non pensate che sia raggiunto uno stato in cui le cose non potrebbero essere peggiori, a meno che non ci sia pentimento, esse peggioreranno. Ecco perché io esorto al pentimento questo popolo, i santi degli ultimi giorni, il popolo di questa nazione, è quello di tutte le altre. Come sfuggire alle calamità Come Sion può sfuggire al fagello del Signore, ciò non di meno. Sion sfuggirà se essa osserverà tutte le cose che io le ho comandate, ma se essa non osserva tutto ciò che ho comandato, io la visiterò secondo le sue opere, con dolorose afflizioni, con la peste, con piaghe, con la spada, con la vendetta e con il fuoco divorante. Ciò non di meno che sia letto questa volta nelle sue orecchie che io il Signore ho accettato la sua offerta e se essa non peccherà più, nessuna di queste cose verrà su di essa. Questo sistema di fuga che ci assicura la protezione del Signore è molto semplice. Sfortunatamente molte persone di Signore si sono rifiutate di approfittare di questa promessa. Osservando le condizioni del popolo, io non vedo come potremo sfuggire quando le nazioni saranno giudicate. In questa rivelazione e in altre che ora non ho il tempo di leggere, troviamo i giudizi che ci sono stati promessi. A causa della nostra disobbedienza e della nostra mancata osservanza dei comandamenti del Signore, i giusti, come nei tempi passati, possono soffrire insieme agli ingiusti. I santi stanno osservando i comandamenti? Così, io mi sono rallegrato nell'alzare una voce di ammonimento. Noi, come santi degli ultimi giorni, santifichiamo la domenica, quando anche nelle comunità dei santi degli ultimi giorni, i cinema, i fotografi, ogni domenica sono pieni pomeriggio e sera, quando nel giorno del riposo i luoghi di piacere sono affollati, quando volgiamo la nostra attenzione ai piaceri domenicali, anziché all'adorazione di Dio? Possiamo reclamare il diritto alle surdenzioni? Avremo noi il diritto di essere risparmiati dagli angeli della distruzione secondo la promessa fatta a cui si osserviamo i comandamenti di Dio? Lo stiamo facendo? Troviamo a ridire su coloro che ci presiedono? Siamo disposti ad ascoltare i consigli che essi ci danno e ad accogliere la voce di Dio attraverso colui che lo rappresenta come suo portavoce sulla terra? Quanti di noi sono disposti a farlo? Stamattina noi eravamo qui in piedi a cantare Ringrazian Dio per il profeta. Tuttavia ci sono taluni di noi che lo criticano, che trovano da ridere su di Lui. Quando Egli parla per ispirazione dell'onipotente Dio noi siamo pronti a condannarlo come abbiamo fatto in passato. In queste condizioni pensate che possiamo sfuggire ai castigli e ai numerati in questa rivelazione fatta il 2 agosto del 1833, un mese dopo che il nostro popolo era stato scacciato dalle sue case per aver violato i comandamenti che aveva solennemente promesso di osservare? Il pentimento necessario per sfuggire alle calamità. Io voglio alzare una voce di ammonimento fra i pali di Sion, voglio esortare tutti al pentimento, ci manteniamo puri e immacolati dai peccati del mondo, abbiamo noi diritto a ricevere le benedizioni, voglio dirvi che i castigli sono già stati dati e vengono dati. Tutti questi scioperi, queste evitazioni, questa inrequetezza, questa insoddisfazione, questo desiderio del popolo di rovesciare i governi, cose che avverrà perché il Signore ha detto che egli decreterà la fine di tutte le nazioni, non sono forse menzionati nelle ripetazioni? E così deve essere. Gli angeli della distruzione sono già al lavoro per compiere la loro missione, già vengono riversati i giudizi dell'unipotente ed essi continueranno perché il profeta di Dio lo ha detto. Se non ci pentiremo, se non ci dedicheremo al Signore, se non faremo onore al nostro sacerdozio e alla nostra chiesa e se non saremo fedeli alle nostre alleanze, non sfuggiremo a tali giudizi. Con l'obbedienza i santi possono sfuggire alle piaghe. Fratelli e sorelle, in questo tempo di pace, che tuttavia, non so quanto durerà, in questo periodo di prosperità siamo umili e ricordiamoci del Signore osservando i Suoi comandamenti e pensando che i pericoli che saranno dinanzi a noi saranno molto più grandi di quelli dei giorni di avversità e di tribulazione. Non pensate neanche per un attimo che i giorni di tribulazione siano passati. No, non lo sono. Se osserveremo i comandamenti del Signore, prospereremo e saremo benedetti. Le piaghe e le calamità che ci sono state promesse saranno riversate su tutti i popoli della terra e noi sfuggiremo ad esse. Sì, esse non ci toccheranno e passeranno oltre. Ma ricordate, il Signore dice che se non serveremo la Sua parola e se cammineremo nelle vie del mondo, non saremo risparmiati e saremo colpiti dal diluio, dal fuoco, dalla spada, dalle piaghe e dalla distruzione. Con la fedeltà potremmo sfuggire a queste cose. L'antica Israele avrebbe potuto sfuggirvi se fosse stata fedele, ma essa si rifiutò di osservare i comandamenti del Signore e non fu risparmiata. Quindi io vi supplico, pagate la decima, osservate la parola di saggezza, pregate il Signore, onoratelo in tutte le cose osservando i Suoi comandamenti affinché Egli riversi su di voi le sue benedizioni in abbondanza. E in umiltà possiate camminare al Suo cospetto ad avere diritto non soltanto alle benedizioni della vita mortale, ma a quelle della vita eterna, che sono il più grande dono di Dio. I Santi possono sfuggire a flaggelli se sono retti. Noi abbiamo il mezzo per sfuggire a questi flaggelli obbedendo al Vangelo di Gesù Cristo. Vi sfuggiremo? Quando anche fra i Santi degli ultimi giorni vedo le trasgressioni alle leggi del Signore, io temo e tremo. Per trent'anni ho esortato la gente al pentimento nei pali di Sion invitando i fedeli a avvolgersi al Signore e a osservare i Suoi comandamenti, a santificare il giorno di Tui poso, a pagare una decima onesta, a fare tutto quello che l'Eterno ci ha comandato di fare, a vivere secondo ogni parola che precede dalla bocca di Dio. Se faremo questo, sfuggiremo alla calamità. Ripeterò quello che ho detto prima e per cui sono stato speramente criticato da alcuni parti e cioè che anche in questo paese non abbiamo punti validi per sfuggire alle calamità. Nessuna solida base su cui stare per sfuggire alla distruzione, alle piaghe e alle pestilenze e persino al fuoco divorante per la spada e la guerra a meno che non ci pentiamo e non osserviamo i comandamenti del Signore perché si è scritto qui in queste rivelazioni. Quindi io esorto al pentimento i santi degli ultimi giorni ed esorto al pentimento il popolo dei Stati Uniti nonché i popoli di tutta la terra come migliorare le condizioni del mondo. Il Signore vuole che i uomini siano felici questo è il suo fine ma essi si rifiutano di essere felici e si rendono infelici da sé perché ritengono che le loro vie siano migliori delle vie di Dio e per l'egolismo, la cupidigia e la malvagità che albergano nel loro cuore questo è oggi il nostro guaio. I capi della nostra nazione lottano e cercano di fare qualcosa per migliorare le condizioni attuali io posso dirvi in poche parole come si può fare e non certamente con la legislazione non riversando il denaro sul popolo. I soccorsi temporanei non miglioreranno la situazione perché dovremmo ancora lottare a combattere con il crimine con le piaghe, con la pestilenza con le trombe d'aria con le tempeste di polvere con i terremoti e con ogni altra cosa che proviene dalla terra secondo le tradizioni dei profeti è tutto perché gli uomini non vogliono prestare ascolto alla voce di un movimento. Quando smetteremo di amare il denaro e libereremo il nostro cuore dall'amore per loro dalla cupidigia e dall'egoismo imparando ad amare il Signore, nostro Dio con tutto il nostro cuore e il nostro prossimo come noi stessi e ci inginoccheremo e impareremo a pregare e a pentirci dei nostri peccati allora avremo la prosperità avremo la pace avremo la contentezza ma le persone non si pentiranno quale che sia l'ammovimento fatto quale che sia il richiamo dell'attenzione su queste cose le persone non si rivederanno perché il loro cuore è dedito al male e la distruzione è la loro fine le condizioni del mondo dimostrano l'apostasia della cristianità mi rattrista molto che la maggior parte della terra sia ora in agitazione che le grandi nazioni del mondo siano impegnate in un conflitto così micidiale 1916 però non di meno mi rendo conto che questi sono i castigli che hanno colpito le nazioni che si sono allontrate dal Vangelo del Signore che non si sono pentite dei loro peccati e che non vogliono ascoltare il messaggio degli anziani di Israele questi castigli sono stati predetti dai profeti e sono il risultato delle iniquità che esistono sulla terra se le persone fossero d'accordo se osservassero il Vangelo del nostro Signore come Ehi che ha detto di fare allora queste condizioni non esisterebbero il Signore ha detto che a meno che non siamo uno non siamo suoi e laddove la gente osserva il suo Vangelo non può esserci quella amarezza di sentimenti quelle contese e spargimento di sangue che troviamo oggi sulla maggior parte della terra le attuali condizioni dell'umanità sono una prova incontrovertibile che il potere e la purezza del Vangelo non sono nelle sue chiese e che esse non è più accetta al Signore perché i giusti muoviono in guerra perché i giusti devono soffrire perché il Signore si prende alcuni dei nostri bravi ragazzi e il Signore dice che Ehi riversa le sue benizioni sui giusti e sui ingiusti Ehi dice anche che è necessario che ci siano trasgressioni ma guai a coloro che lo commettono in tutte le epoche alcuni giusti hanno dovuto soffrire per le azioni degli ingiusti ma essi avranno la loro ricompensa molti di loro che in questi giorni di lotta perdono la vita sono chiamati a Dio perché sono necessari per l'opera sull'altra riva essi non saranno condannati perché muoiono durante l'emissione del giudizio divino perché nessuna condanna può figurare alla loro porta e evidentemente sull'altra sponda c'è bisogno di loro che è un'esercizio che si tratta lo soffrire è un'esercizio Grazie.